le persone a pensarla come me di che parlo parlo di abolire lo stipendio dato dai youtube ai youtubers tron senti lì che dicono tu cazzate hanno 200 300 mila visitatori e pieno un sacco di sordi ma che è un lavoro questo ma se ti piace raccontare cose storie sei seguito sei contento quale che vuoi i soldi che vuoi i soldi seduto senza fare niente almeno ma lo sa quanta gente se ne va a lavorare adesso ci stanno tutti a provare tutti fa io sono youtuber più i soldi da youtube c'è sta gente che c'ha tipo 3 milioni dei scritti ma quanto via quello cioè ma qui c'è stava un giro di milioni mondiale ma miardi che potrebbero andare in altre mani coi soldi invece di istituto stronzetti che parlano dell'inte parlano da roma parlano da juve e pieni i sordi noi stronzi li hanno a vedere perché non aboliamo sta cosa chi vuole fare un youtuber lo faccia ma i sordi si deve danno a guadagnare voglio vedere se poi fanno i video siamo bravi tutti no se siamo 100 mila iscritti ho sfortato tutta la vita io guadagnerò senza lavorare ma che è ma che è sta cosa abolimola ragazzi abolimola che stanno pensioni gigantesche prese da gente che è stata senza una sedia tutta tutta la vita e non ha fatto niente tutti sti militari sti carabinieri la finanza tutti miardi tutto un giro ma pure youtuber youtube deve mettere una regola volete fai video vi piace fai video vi piace essere seguiti li fate e non vediamo una lira perché la goduria lì è invece 50 mila 60 mila visitatori è una bella cosa che tu fai in discorso e te lo sentono 60 mila persone potresti cambiare il mondo hanno capito invece no tutto a pagamento tutto per i soldi tutto tutto lo sfruttamento quello a darmi i soldi te faccio avere tutte le visualizzazioni te faccio te faccio arrivare a mille a mille a mille visualizzazioni a mille ma io dico ma a che punto siamo arrivati andò arriveremo ma che è un mestiere questo io adesso sto a parlare a letto sto pure che la febbre alta 30 anni e mezzo secondo te io dovrei essere pagato per aver detto queste due cose mi vedono 100 200 persone secondo voi mi devono pagare un milione di persone perché mi devono pagare il gusto è farsi vedere no fai video ti guardano sentono come pensi la soddisfazione che c'hai sempre più iscritti ma qui è tutto per soldi io vorrei che tutti quelli lì che c'hanno 70 60 80 mila 90 mila 100 mila 200 mila un milione di euro non gli dassero una lira andassero a lavorare a lavorare come lavorano tutti chi se lo può permette di lavorare questi ragazzini 18 anni non mi conviene manco più a una scuola questo sistema usa quanto pieno al mese con l'altro carretino d'aroma con occhiali 18 anni mi sembra tutto lui ma io so 55 anni che seguo il calcio devo sentire a te che c'hai 18 anni sei nato ieri ieri sei nato ma a te che ne sai del calcio più di me che io ti fu l'intera dal 69 tu usando stavi nel 69 sulle stelle allora la gente è stupida che va a sentire sti commenti poi fanno le finte litigate quello gli dice facciamo pace quell'altro no non voglio far pace solo se chiedi scusa mamma mia e poi a vedere 30 mila 40 mila visitatori per vedere sta roba a che punto siamo arrivati ragazzi famola finita aboliamo questo discorso di prendere un stipendio stipendi interi belli puliti senza spese nulla dai youtubers non va bene sta cosa ti piace farlo youtube però va pure a lavorare quando c'hai tempo fai o youtuber no che fai a tempo pieno e pieghi sordi ma chi ti viene a guardare ma chi te sei fila dicessi cose interessanti ma perché te devo pagare perché te devo pagare vabbè io se qualcuno pensa come me se scrive al canale mio mi fa un piacere perché voglio insistere su sta cosa io c'ho 100 iscritti 140 iscritti per pieghi sordi c'erano 10 mila 20 mila eccetera eccetera non ci arriverò io io già ho detto in diversi video io proprio per far ragionamento ma secondo voi ve lo ripeto e ve lo ridico ma come se fa a da stipendi a milioni di persone che fanno i video ma che video poi mi parli dell'inter mi parli della roma ma che me ne frega a me ma che me ne frega a me ma qui non si arriva a fine del mese oh vabbè lo ripeto se siete d'accordo che scrivete se non fa niente io penso così ciao a tutti